L'agurio, bene o male, è sempre lo stesso, cioè quello di poter vincere il campionato del 2020, diciamo in questo modo. Questo è l'agurio più importante che vorrei fare a tutta la squadra, insomma a tutta la società del Palermo, a tutti i tifosi. Il ruolo mio e di Mario è completamente differente. Mario è un leader sotto tutti gli aspetti, nel senso che è un giocatore che ha fatto cose importanti, è arrivato fino alla Champions League, è un giocatore che è cresciuto in un mondo abbastanza difficile, quindi sa quello che deve darti. Io sono più un tienigruppo, nel senso che mi sono preso in carico tutti i giovinotti, come si dice da noi, cerco di dare il mio contributo a mantenere la squadra equilibrata e felice, sono quello più scherzoso lì dentro, insomma ho un ruolo completamente differente. Mario è più per il serio, io sono più per il giocherellone, però sicuramente entrambi abbiamo quel carisma che ci permette di dare qualcosa in più. Dobbiamo ricompattarci, dobbiamo essere forti e continuare quella striscia lì positiva che ci può permettere di allungare in classifica. Il livello tecnico è un pochino più basso, però c'è tanto, tanto, tanto agonismo e ovviamente l'agonismo fa tanto in questa categoria. Non mi aspettavo sicuramente questi campi che si trovano, in trasferta abbiamo trovato dei campi a dir poco imbarazzanti, perché giochiamo su campi dove, io ho fatto il paragone con la nazionale l'altra volta, secondo me se metti la nazionale italiana a giocare in campi del genere come quelli che abbiamo trovato noi a Biancavilla o a Palmi o non mi ricordo nemmeno, secondo me fanno fatica pure loro. Floriano è un giocatore forte, tra l'altro ci siamo sentiti anche ieri per telefono, è un giocatore forte, è un giocatore che può sostituire Sant'Ana benissimo, è un giocatore, è un driblomane, gli piace scartare, rientrare, è un giocatore che gioca a piede invertito, per questa categoria è devastante, è devastante. Se devo presentarlo in un modo lo presento in questo modo, è un giocatore che fa sicuramente la differenza, se viene sicuramente ci potrà dare una mano, sì.